Ehi Mirabel, sai che le tue storie sono belle e ci fai divertire con la tua pazza fantasia? Bene piccole, eccoci arrivati al Luna Park. Sì, 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 vieni dai Greta, vieni. Sì, arrivo, aspettami. Ecco. Noi aspettiamo qui, tassore a papalino. Va bene. Comprati questo, guarda. Ma che cosa è? Stai benissimo con tre occhi. No, brutto. Vabbè. Oh, se ci mettiamo questi. Tieni. È molto bello, però non lo compriamo perché non ti va, è un po' grande. Andiamo. Io voglio questo. È molto bello. Tu perché non ti metti questo? Questo pappello? Posiamo questo, mettiamoci questi, che sono molto belli. Andiamo, dai. Allora, qui c'è la mappa. Allora, qui c'è la mappa di tutto il Luna Park, credo. Però ci sono poche giostre. Sì. E vabbè. Allora, noi siamo qui. Sì, dove c'è la ruota. Ok, dove sta questa ruota, non la vedo. Questa è di qua. Vabbè. Andiamo a controllare di qua cosa c'è. Uh, che bello. Ah, il bagno è che bello. Perché? No. Perché dovevo fare pipì. No. Ti aspetto qui, io intanto mi mangio un panino. Ma non è anche buono. Scusi, quanto era quel panino? No, era gratis. Uh, grazie. Hai fatto? Sì. Eccomi. Mi ho lavato le mani. Va bene. Andiamo. Posa questo bicchiere. Che ti non siete? Posa il bicchiere. Poi lo prendiamo. Uffa. Allora, questo è un gioco. Giochiamo, giochiamo. Oh, va bene, giochiamo. Ah, dobbiamo fare di qua, ok. Uh, chi ha vinto? Ancora non si sa. E tu? No, hai vinto tu. Wow. Eh, prendi questo. Visto che siamo in tema, andiamo. Andiamo di qua, vai. Andiamo cosa c'è. Andiamo di qua. Oh, eccola la dita. Andiamo sulla rosa. No. Perché sulla rosa? Andiamo sulla rosa. Va bene. Bene, ragazzi. Aspettate che vi aiuto, eh. Perché non c'è nessuno. Bene, vi siete misurate? Eh, no. Andiamo, dai. Allora, vediamo. Tu puoi salire. Yeah. Vai sulla sedia che preferisci. Allacciati bene. Bene. Tu, vediamo. Ok, puoi andare. Allacciatevi bene. Sì. Sì. Tre, due, uno. Pronti. Ma dai. Ma dai, che urli. Dai, leviamo. Diminuisca, signora, paura. Va bene. Ma meglio. Dai, però così è lentissima. Bene. Tra un pochino ho finito il giro, eh. Perché durano un po' di minuti. Un pochino. Bene. Un minuto, penso. Penso che è pochissimo. Dura poco. Ecco fatto, finito. Vabbè. Andiamo, dai. Andiamo al secondo piano. Mamma, papà. Andiamo al secondo piano. Va bene, tesoro. Va bene. Andiamo al secondo piano. Andiamo al secondo piano. Eccoci, arrivate. Dai, vieni. Oh, attenzione alle scale, eh. Ui, che bello questo skateboard. Andiamo prima di qua, stavola. Andiamo prima di qua, va bene. Oh, che bello. Aspetta, qui c'è una scivola. Come? Voglio scivolare prima io. No, ha fatto prima io. Aspetta, guarda qui. Con la nave dei pirati. No, no, non possiamo andare. No, siamo troppo grandi, Moppy. Oh, qui ci sono delle montagne. Oh, salve. Salve. Salve, ragazze. Volete salire? Sì. Sì, ovvio. Beh, misuratevi. Sì, allora. Mamma mia. Vediamo. Che dobbiamo fare? Ci dobbiamo misurare. Eh, ragazze. Ah, il mio cappello. Mi scusi. Era troppo bello, volevo provarlo. Allora, va bene, sì. Puoi andare. Yeah. Andiamo su quella viola. Aspetta. Vieni tu. Allora, ok. Sei alta, però puoi andare. Yeah. Allora, salite su questa. Aspettate che vi apro. Ecco. Andate. Sì, andiamo, andiamo, andiamo. Sì. Qui. Bene. Attenzione che la faccio partire. Vado. Uh, che bello. Dai, piano, calmati. Uh, divertentissimo. Super divertente, super divertente, super divertente. Dai, fate un altro giro, dai. Il tempo è quasi finito, però, dai. Non fa niente. Nessuno lo saprà. Nessuno lo saprà. Bene, venite. Ecco qua. Eccoci. Bene, arrivederci. 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 È un gelato a terra. Eh, non fa niente. Lascia lottare. Non è nostro le cose da terra, non ti raccolgo. Lo so. Uh, che bello. Wow. Scusi, possiamo salire. Certo. Certo, misuratevi. Ok. Misurati tu, Greta. Sì. Ok, posso andare. Vada. Io vedo sulla gialla. Ah, va bene. Come i miei capelli. Tu vai sulla rosa, come i tuoi capelli. Uh, c'è una conchina. Ok, sì, bellissimo. Posso andare bene. Sulla rosa, tu questa. La rosa. Ah, sulla tua. Va bene. E... Eh, faccio partire. E vai. Wow. Aspettate. Oh, il mio cappellino. C'è il loro. Uh, che bello. È bellissimo. Bene, aspettate, diminuisco. Oh, vai. Eh, sì, diminuisco. Ecco, possiamo stoppare. Ho finito il giro. Come? Aspettate, non riesco. Ecco. Andiamo. Voglio scendere. Sì, andiamo. Arrivederci. Arrivederci. Bene, allora, di qua già abbiamo visto, possiamo andare al terzo piano. Sì, andiamo al terzo piano, andiamo al terzo piano. Che sei arrivato? Ma che ci viene? Non lo so, andiamo prima di qua. Andiamo di qua. Prima siamo andati di là. Allora, saliamo qua. Sto volando. Uh, questa è la foto quando tu non c'eri. E la mamma mi ha portato a me. Uh, ma perché sono qui? È perché tu eri dal dentista. Uh, c'è di nuovo Mr. Saturno. Mi vuoi sedere io vicino a lui. Va bene. Bene, ragazzi, però non vi siete misurate. Uh, tu c'è la ragazzina dell'altra volta. Sì, sì, sono io. Misuratevi. Allora, vediamo. Tu puoi andare. Io posso andare? Aspetta. Ah, metto io vicino al Mr. Saturno. No, dai, non lo voglio mettere io. Non lo metto alla paletta. Ma neanche lei. Bene, vai. Ma io vicino al Mr. Saturno. Dopo facciamo due giri. Facciamo due giri, va bene? Va bene. Ecco. Fa paurissima. Non è vero. Bene. Giostra finita. Bene. Salve, signore Mr. Saturno. Giusto il suo nome? Sì, il mio nome. Non lo vogliamo fare così, signorina. Giusto. Ma già me ne ero dimenticato. Bene. Facciamo due giri. Adesso metto io vicino al Mr. Saturno. E mi metto qui. Bene. Facciamo la giostra. Vai. Che bello. Uhu. È bellissimo. Sì. Che bello. Che bello. Che, che bello. Space Spin. Perché mi è spenta la luce? Perché mi è spenta la luce? L'hai spenta tu, forse. Sì, ma... Boh, vabbè. Bene, giro finito. Dai. Arrivederci. Arrivederci. Allora, qui vediamo dopo. Uh, qui è l'altra volta che siamo venute insieme. Eh, già me lo ricordo. Già, già. Andiamo. Andiamo. No, no. Questa giostra mi ha fatto sempre paura. Non è vero. Mi siete misurate? No. Qua ci devi mettere sempre. Ok. Tu puoi andare. Io. Bene. Aspetta. Togli il cappellino. Sì, puoi andare. E lei non l'ha fatto togliere il cerchietto, bravo. Sì, però il tuo cappellino è più grande. Non fa niente. Andiamo. Piano. Calmati, calmati. Non urlare, dai. Stai divertentissimo. Fa paurissima, però. Dai, ragazzi. Su, scendete. Ho che paura. Ah, quale paura? Sì, hai tolto il cerchietto. Scusa, possiamo stampare la foto? Già. Certo. Stampiamo, 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 stampiamo. Uh, ecco a voi. Siete. Uh, aspetta, andiamo a stampare. Ah, grazie, scusi. Arrivederci. Arrivederci. Andiamo a stampare anche quell'altra, però. Con mister... Saturno, sì. Salve, scusi, vorremmo stampare questa. Certo, stamparò. Yeeeh! Oh, ce ne sono due. Ma credo di sì, perché prima noi ne abbiamo fatto due giri. Vabbè, non fa niente. Aspetta, dai. Io la voglio, quella che sto io vicino a Mr. Saturno. Ma non c'è. Uffi. Ma... Vabbè, vabbè, dai, andiamo di nuovo al primo, così ce ne andiamo. Andiamo al primo piano, andiamo al primo piano. Eccoci qua, dai. È stato bellissimo al boom-dum. Già. Ci dovremmo venire l'altra volta con i nostri amici. Da. Salve, arrivederci. Salve, arrivederci, arrivederci, signora. Ciao, mamma. Ciao, papà. Ciao, mamma, ciao, papà. Ci siamo divertiti un sacco. Bene, piccole, dai, andiamo a casa. Sì, dai, così ce ne andiamo. Va bene, mamma. Va bene, papà. Va bene, papà. Guardate le nostre foto. Wow, che belle. Aspetta, fammi vedere. Dai. Oh, che bella. Oh, che bella. Non mi sta saperne. Non mi si vede più la faccia. Bene, ragazzi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. Mettete like. Condividete il video. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.